Volo d'Argalce, note mail, Sirano, Prenz, TC, Titano N, Candy, Febbi in prima fila ai 2060 metri, seconda fila per Vis Road, Capitano Sane, Byron Staff, ritirato Chopin e Griff, da solo ai 2080 c'è Aska Banfonte. Convalidato il primo segnale con Volo d'Argal alla corda impegnato da Byron Staff che è partito bene dalla seconda fila e più in fuori c'è Candy Febbi, Byron Staff che va per primo sul Volo d'Argal e lo impegna. Passa a condurre dopo 250 metri, terza posizione per Vis Road davanti a Candy Febbi che si è sestiamata quarta, più indietro c'è il favorito Sirano Prenz, TC che supera cenote mail e va in quinta posizione, prende la via del largo dopo aver recuperato la penalità Aska Banfonte che lascia in coda al gruppo Titano M Mentre ha sbagliato Capitano Sane. 600 iniziali in un comodo 47,7 da parte di Byron Staff seguito da Volo d'Argal, Vis Road, Candy Febbi e Aska Banfonte che insiste a largo. Sirano Prenz, TC che prende la scia di Aska Banfonte che prosegue la sua risalita graduale mentre Byron Staff continua a graduare. Volo d'Argal anticipa all'ultimo istante Vis Road che a sua volta aveva anticipato Aska Banfonte e va con un solo parziale a togliere il comando a Byron Staff. A metà gara Volo d'Argal, nuovo leader nei confronti di Vis Road che cerca a sua volta di scavalcare Byron Staff. Poi Candy Febbi, poi Sirano Prenz, TC. Volo d'Argal in vantaggio nei confronti di Vis Road che va al sarchi del nuovo leader. Poi Byron Staff, poi si avvicina Sirano Prenz, TC. Molto più indietro ci sono Candy Febbi e poi anche Aska Banfonte. Allunga Volo d'Argal, Vis Road che cerca di insistere ma reagisce lungo la corda a Byron Staff. Si avvicina Sirano Prenz, TC. Volo d'Argal in chiaro vantaggio che va a completare il miglio in 2-2-2. In seguito sempre da Vis Road con all'interno Byron Staff si avvicina Sirano Prenz, TC. Volo d'Argal che sta affrontando al comando la retta d'arrivo. Nella sua scia c'è sempre Byron Staff. All'esterno c'è sempre Vis Road. Si avvicina Sirano Prenz, TC. Volo d'Argal che dopo un momento di impasse torna ad allungare. Prende vantaggio da Byron Staff che rientra a Vis Road. Poi Sirano Prenz, TC. Volo d'Argal in vantaggio su Byron Staff. Sirano Prenz, TC e Vis Road nel finale stacca e vince. Volo d'Argal davanti a Byron Staff e Sirano Prenz, TC. che batte Vis Road. 1-8-3. L'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle. 2-33-8 sul mio cronometro per gli ultimi 2.000 metri. Quindi media intorno all'1.17 per il vincitore. Volo d'Argal, Paolo Petrella per il treno indicino di Cristofaro. la vittoria del 9 anni da Merzokéi che passa a condurre a metà corsa. Frusta al cielo per il gentleman vincitore davanti a Byron Staff. E al terzo posto invece Sirano Prenz, TC. 1-8-3. L'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle. Linea allo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.